Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo episodio della miniserie dedicata ai miei investimenti. In questa serie analizzo l'andamento dei miei investimenti mese per mese e faccio il riepilgo dei miei guadagni e delle mie perdite. Questo mese è stato sia negativo sia positivo, perciò diciamo neutro. Per quanto riguarda il mercato azionale ci sono delle novità enormi, soprattutto riguardanti l'ultima settimana di febbraio. Per quanto riguarda il mercato del peer-to-peer lending, nessuna novità ma stiamo andando abbastanza bene. Per quanto riguarda il mondo delle criptovalute, le cose sono altalenanti completamente. Prima di tutto voglio dirvi che in questo video mostro azioni in cui ho investito io, ma io non sono un professionista e non vi consiglio assolutamente di seguire quello che faccio io. Dovete studiare i mercati oppure affidarvi a un professionista che possa gestire i vostri soldi nella maniera migliore possibile. Partiamo subito con il mercato azionario e febbraio è stato un mese nerissimo, perché in questo mese ho perso i guadagni degli ultimi sei mesi di investimento. Siamo tornati infatti a prezzi che stanno sui livelli di settembre 2019 e le cose a marzo potrebbero peggiorare ulteriormente. Infatti nel mercato azionario uno dei rischi principali è proprio questo. I soldi potrebbero scomparire, nel senso di perdere valore da un momento all'altro, nel giro di una settimana perdere il 15-20%, e questo potrebbe ripetersi anche le prossime settimane, peggiorando ulteriormente la situazione. Ricordiamoci inoltre che i soldi del mercato azionario non vengono persi, ma sono spostati su altri asset o su altri tipi di investimento. In una settimana il mio portafoglio che valeva a inizio febbraio 14.500€ è arrivato a valere 13.000€, perciò ho perso il 12%. Diversi titoli che possiedono ho perso oltre il 10% del valore a cui li ho acquistati. Vedo anche questo momento come una vera e propria opportunità di investimento, perché posso abbassare il prezzo di acquisto medio delle azioni e beneficiare di questi sconti del mercato. Questo perché di solito sono propenso a chiedere a me stesso, ma se ho accettato di comprare azioni ad un prezzo più elevato, perché non acquistarle in sconto? Comunque, le uniche azioni che sono ancora in verde rispetto al momento in cui le ho acquistate sono quelle di McDonald's, che sono a un misero più 2%. A metà febbraio era arrivato anche a più 12-13%, ma in questo momento sono praticamente in pari rispetto al prezzo di acquisto. Poi ci sono i veri e propri drammi. 3M ha perso l'11%, Eny ha perso oltre il 14%, e ho ricevuto nel giro di 3-4 giorni diverse mail da DeGiro, che mi comunicavano molto allegramente di aver perso oltre il 10% del valore del prezzo delle azioni. A parte questo, a febbraio ho effettuato dei nuovi acquisti di azioni, e sicuramente a marzo effettuerò dei nuovi acquisti, dato il prezzo delle azioni che è crollato. Per quanto riguarda Eny ho acquistato altre azioni a 12,61€, abbassando il prezzo medio di acquisto di queste azioni, altri 1000€ per un totale di 2000€. Però al momento le azioni valgono 11,8-11,9€, perciò potrò a marzo abbassare ulteriormente il prezzo medio di acquisto di Eny. Inoltre a inizio febbraio ho acquistato anche un nuovo ETF, riferito ai mercati emergenti, cioè asiatico-sudamericano, e ho acquistato 97 azioni per il prezzo di 30,8€ per azione, sfruttando le commission free di De Giro. A inizio gennaio il prezzo era basso, per le notizie riguardanti la Cina. Poi a febbraio un po' è stato in ripresa il valore delle azioni di queste ETF, ma nell'ultima settimana di febbraio crollo totale, e al momento sono a un meno 5%. Ma credo che queste ETF nel lungo termine possa aumentare il proprio valore, perché essendo un ETF ad accumulazione reinvesti i dividendi all'interno delle ETF. Con i dividendi siamo andati abbastanza bene questo mese, però attenzione perché quei meno 1500€ includono anche i guadagni da dividendo. Ho ricevuto finalmente il primo dividendo di Apple Hospitality Rate, pari a 7 dollari, e perciò ho ricevuto 5,50€. Il prossimo mese riceverò gli stessi 5,50€, perché il dividendo è già stato stabilito e verrà assegnato il 3 marzo 2020, quindi tra pochi giorni. Ho ricevuto anche il primo dividendo dell'ETF dedicato al Real Estate Investment Trust, un ETF di rates, pari a 9,44€. E in realtà devo dirvi che all'inizio mi sono un po' spaventato, perché questo dividendo era stato dichiarato per il 16 febbraio 2020 e di solito compaiono come in attesa su DeGiro di essere pagati. E il giorno del pagamento era il 26 febbraio. Ma poi, puntualmente, anche se non ho avuto notizie fino al 26 febbraio, quel giorno i soldi mi sono stati effettivamente accreditate su DeGiro. In più questo mese ci sono stati due dividend ex date, cioè data di assegnazione del dividendo. 3M mi ha assegnato un dividendo di 1,47$ per azione, per un totale di 13,60$. Mi è stato assegnato il 28 febbraio il secondo dividendo di McDonald's, che mi verrà pagato a metà marzo. E questo dividendo è pari a 1,25$ per azione, per un totale di 10,60€ tesi. Per quanto riguarda i dividendi a febbraio, quindi ho ricevuto 14,94€. Non tantissimo, infatti questo valore non considera il pagamento che verrà a marzo dei dividendi ex date di febbraio. Comunque questa è un'entrata passiva che ho generato, a prescindere dal calo di prezzo delle azioni. Passiamo adesso al peer-to-peer lending. In realtà per questo mese c'è abbastanza da dire. Per prima cosa se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale P2P Lending Italia, il cui link potete trovare in descrizione a questo video. In questo canale infatti vengono trattati gli argomenti del peer-to-peer lending a 360 gradi in maniera completa. Per prima cosa vi voglio aggiornare sulla situazione in vestio. In realtà non c'è molto da aggiornare. La situazione è rimasta bene o male la stessa, con la piattaforma out, disattivata, e gli investitori che hanno in corso dopo una class action per riavere i fondi investiti. In realtà in questo canale non voglio più parlare di investio. Io ho rimosso tutti i link dedicati ad investio e i video recensione di questa piattaforma, o ex piattaforma. Per quanto riguarda Mintos, la novità di febbraio è che è uscita la nuova app disponibile per Android o iOS. In questa app, che recensirò in un prossimo video, sono presenti quasi tutte le funzionalità, a parte la possibilità di acquistare dei prestiti. Perciò quasi nessuna funzionalità. La novità numero uno per quanto riguarda Mintos in sé è il fatto che la percentuale di guadagno mostrata all'interno della piattaforma include anche tutti i link di affiliazione, quindi i guadagni da referral e i guadagni del mercato secondario. Perciò, se prima veniva mostrato l'11% relativo agli interessi dei prestiti, adesso vengono mostrate cifre assurde, come il 124%, ad esempio. Per fortuna ho ancora il foglio Excel attivo che sto aggiornando settimana dopo settimana. Il rendimento su Mintos annualizzato al momento è pari al 10,74%. Il saldo complessivo è pari a 1.100€ e ho ottenuto interessi per 9,06€. Questa piattaforma credo che sia la più sviluppata attualmente sul mercato e la più affidabile assieme a Bondora. Perciò, in questa piattaforma ho intenzione di aumentare la quota di capitale investito nel prossimo mese o in quello successivo. Parlando di Bondora, questo mese ho raggiunto un capitale investito di 1.542€ e ho ottenuto un nuovo record di interessi, pari a 8,16€ per il mese di febbraio. Il rendimento attualmente è pari al 5,24% perché ho effettuato ben 5 prelievi, ho perso 5€. Però il rendimento, senza considerare queste commissioni, è sempre pari al 6,75% offerto da Go & Grow. Per quanto riguarda Groupir, il capitale investito nella piattaforma è pari a 1.280€, ma lo voglio portare a 1.000€ circa, perché ho cambiato la mia strategia di investimento e voglio concentrarmi su queste tre piattaforme più importanti, secondo me, Mintos, Bondora e Groupir. Questo mese ho ricevuto 10,98€. Comunque è un buon guadagno passivo, secondo me, considerando che ho investito 1.000€ in questa piattaforma, 1.200€. Per quanto riguarda Bonster, voglio ridurre il capitale investito in questa piattaforma a 300€. In questo momento sono a circa 370€ investiti. Ho prelevato 130€ e nel prossimo mese spero di riuscire a prelevare tutti i 70€ per completare la mia strategia. Ho comunque guadagnato 4,33€ per un rendimento del 9,5%. Se volete provare questa piattaforma vi lascio un link in descrizione per avere un bonus sull'investimento dei primi tre mesi pari all'1% di quello che investite. Per quanto riguarda Suisi, finalmente ho ricevuto i primi interessi pari a 3,25€. In realtà questi interessi sarebbero lordi, ma grazie alla promo di Suisi, le trattenute di tasse pari al 26% ci vengono rimborsate per i primi tre mesi di investimento sulla piattaforma. Il rendimento mostrato è pari al 2,2%, ma in realtà deve ancora andare a regime dato che ho iniziato a investire a metà gennaio. Nei prossimi mesi il rendimento arriverà al valore di 4,5%, 5% mi aspetto. Considerando poi che ho attivato il reinvestimento automatico dei miei soldi, vi terrò aggiornati nei prossimi mesi su come funziona e sulle capacità di questo reinvestimento automatico. Per quanto riguarda PeerBerry voglio arrivare a 150€, non perché la piattaforma in sé ha dei problemi, ma perché ho rivalutato la strategia di investimento. Questo mese ho guadagnato 2,01€ per un rendimento dell'11%, perciò una delle migliori dopo Grupeer. Per quanto riguarda FastInvest e Twino sto continuando il percorso di uscita da queste due piattaforme, prelevando tutto il capitale. Ho comunque guadagnato 66 centesimi in Twino per questo mese e 3,97€ su FastInvest. Il capitale totale investito nel peer-to-peer lending del mio portafoglio è pari a 5.880€ e questo mese ho ricevuto 42,42€ di interessi. Attualmente la perdita complessiva nel peer-to-peer lending ammonta a 475€ e di questo passo guadagnando dai 40 ai 50€ al mese riuscirò a fine del 2020 a tornare in pari. In totale per quanto riguarda la somma di entrate passive di interessi del peer-to-peer lending e dividendi azionari ho ottenuto 57,36€, un nuovo record nel mio portafoglio di investimenti. Questo come sempre non è un numero enorme, non è ancora un numero enorme spero, ma sicuramente sono 60€, quasi, che ho guadagnato in maniera completamente passiva e che si aggiungono al valore complessivo del mio portafoglio. Per quanto riguarda i bitcoin questo mese è stato un mese pazzo, seguendo bene o male l'andamento delle borse. A inizio febbraio un bitcoin valeva 8.500€, a metà febbraio è arrivato a valere anche 9.620€, a fine febbraio il valore è sceso a 7.900€. Questo significa che attualmente sono ancora in guadagno sui bitcoin perché aveva investito 500€, ma il valore è sceso da un massimo di 750€ a 611€ attuali. Per il resto ho investito questi 500€ in bitcoin per il lungo, lunghissimo termine, perciò mi interessano relativamente queste variazioni di prezzo nel breve termine, in un mese, due mesi o un trimestre. Comunque anche questo mese 60€ di guadagni passivi, un risultato secondo me non male, soprattutto perché non mi aspetto da un momento all'altro di arrivare a guadagnare 300-400€ al mese investendo queste cifre, ma poco a poco voglio aumentare quanto investo e migliorare la mia condizione finanziaria. Per il video di oggi questo è tutto, se ti è piaciuto e ti è stato utile lascia un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato. Ciao!